Quanti passi che ce ne siano? Di luce intendo. Ci vuole una bella squadra per un'operazione così. Credi che ci saranno i miei coetanei? Ah, non lo so. Wow, 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 wow. Che succede? Sembra un runner. Resta col cavallo, vado a controllare. Sei sicuro? Sì, non voglio che scappi via. Torno subito. Questo coso è stato sistemato dalla buona. È a secco. Ok. 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 Grazie. 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 A posto. Ehi, stavo pensando... Avrei voluto fare l'astronauta. Davvero? Sì. Ti immagini essere lassù tutto solo? Sarebbe stato bello. E tu? Cosa avresti voluto fare? Ehm... Beh, quando ero bambino volevo fare il... Il cantante. Ma smettila. Sul serio? Canta qualcosa. Ah, no. Avanti, non rido. Non ci credo. Joel. Per favore. Ehm... 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 Ehm...